Interventi coraggiosi per le micro, piccole e medie imprese, asse portante dell'economia italiana. Meno misura a pioggia e sparse su vari settori, ma poco incisive per la ripresa e la crescita del prodotto interno lordo. La manovra sui conti pubblici dovrebbe concentrarsi sul fisco e mettere le PM italiane in condizioni di fare investimenti, crescere e dunque di creare nuova occupazione. È quanto chiede al governo e il presidente di un'impresa, Giovanna Ferrara, mentre è in corso la messa a punto delle misure che comporranno la legge di bilancio per il 2019. A nostro avviso, i 40 miliardi di euro di fondi complessivi finora individuati tra maggior deficit, revisione della spesa e talune rimodellazioni delle tax expenditure dovrebbero essere convogliati per un abbattimento secco della pressione fiscale per le piccole imprese. Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana, conclude il presidente di un'impresa Ferrara.